Giancarlo Lanalli, lei è presidente dell'Associazione Culturale Villa Badessa e ha conservato anche grazie al vostro impegno una tradizione e una fervenza culturale che tutt'oggi è attiva. Questa sera qui a Pianella appunto parlerà di questa vostra esperienza. Sì, è proprio così. Villa Badessa rappresenta una unicità a livello regionale, infatti l'unica realtà di rito greco-bizzantino. Ancora oggi infatti la liturgia, sotto le indicazioni di Papa Francesco, in realtà sono perseguite ancora come nella chiesa antica. Ad esempio le specie del pane e del vino alla comunione, rispetto invece al rito latino. Ma ancora, la lingua purtroppo ormai è una memoria, ma le altre tradizioni sono ancora molto vive. Nella settimana santa, ad esempio, la processione e poi ancora la presenza del coro, che ancora arricchisce la liturgia orientale bizantina con canti in lingua greca. E proprio la domenica di Pasqua, la liturgia si tiene all'alba e dura oltre due ore, ma alla fine è previsto proprio uno scambio di auguri con le uova rosse come simbolo di rinascita, il pane benedetto e ancora un tipico dolce con grano aromatizzato con spezie orientali. Senta, lei parlava appunto del discorso linguistico. È veramente, totalmente, diciamo, una cosa da archiviare o c'è ancora una presenza? Ecco, dunque, questo è un bel aspetto, perché io, proprio discendo da una delle famiglie originari a Brescia Albanese, i miei nonni, in famiglia, a suo tempo, quando ero piccolo, mi ricordo che parlavano fra loro anche una lingua a me molto strana. Ma poi non vi è stata la trasmissione a livello familiare e quindi oggi soltanto 4-5 donne anziane o oltre 90 anni riescono ancora ad avere dei frammenti.